Aldo racconta, racconta, racconta ogni ora, ogni giorno sono a Milano, cosa c'è di più bello qua? Cosa c'è di più bello essere in piazza Gaulenti? Cosa c'è? E poi, poi mi trovo bene, c'è una temperatura ideale di 9-8 gradi, sto benissimo, ma guardate che cos'ho qui! Ma guardate, ma guardate cosa mangio stasera, l'acciughina, pomodorini, le olive, le uova, l'ho presa qua sotto, l'essi lunga e sto bene, amo la mia libertà che ho avuto oggi, non potrei essere legato ad un'altra persona, il mio senso di avvicinamento è solo YouTube, la comunicazione online, però sono libero, libero di essere, di fare quello che voglio, è questa che conta, la libertà, la libertà in assoluto, beh, molti non la vogliono, io non sono come gli altri, amo me stesso, in quanto sono libero in tutte le mie condizioni, nell'agire e nel fare, come stasera, come stasera questo bel picnic, ecco, nonostante le mie mani, la difficoltà che ho avuto oggi, però sono riuscito ad andare in un bel paese, prima, prima di inovare da un farmacista, che mi ha detto, ci vuole pazienza, poi guariranno, ebbene, domani ci sciopero dei treni, ma io non mi fermo, mi fermo solamente quando sono vecchio, veramente, quando io sono vecchio di stare in casa tutti i giorni, allora, oppure se ho degli obblighi familiari, come prima, quando avevo mia mamma, e sì, ero legato, ora amo questa libertà, il dovere familiare per me è importantissimo, però è importante anche l'esistenza individuale di ogni persona, Aldo, Aldo.